Ciao a tutti, hai chakra bloccati? Ecco il test per scoprirlo. I chakra principali, secondo la tradizione del buddismo tantrico tibetano, sono 5, cioè secondo quanto c'è detto Shakyamuni. Poi non è che ci sono solo questi 5, ad esempio nella tradizione dello yoga sono 7, ma questo dipende un po', insomma, anche perché comunque nella tradizione tantrica tibetana gli altri due chakra vengono prese assieme, quindi quello che noi chiamo la terza occhia, chakra del capo, è considerato un unico chakra e insomma quindi ci sono delle unioni. Però in realtà poi il sistema di chakra è fatto da tantissimi chakra. Il chakra è un centro di energia, una ruota, la parola chakra significa ruota e sono dei centri di energia che danno un colore alle energie della nostra vita. Sono delle ruote che girano verso destra nel caso di soggetti maschili, o dove è prevalentemente, diciamo, caratterizzante l'energia maschile, verso sinistra in soggetti femminili o in soggetti che hanno prevalente l'energia femminile. Quando questi chakra sono bloccati, cioè non si muovono nel modo giusto, si hanno degli scompensi, quindi noi possiamo immaginare, diciamo, di osservare gli scompensi che abbiamo poi per andare a lavorare sui chakra e sbloccare i chakra. Il primo chakra, chiamato chakra radice o chakra segreto nella tradizione tibetana, è quello alla base della colonna vertebrale, alla base dell'osso sacro. E, diciamo, è rappresentato da una ruota di colore verde e rapprese il colore, quindi, del verde, secondo la tradizione del buddismo tibetano, ripeto, i colori variano anche qua, a seconda delle tradizioni, ma io seguo questa, quindi mi faccio riferimento a questa. E, comunque, quando questo chakra è bloccato, la persona tende a vivere a bassa autostima, stati depressivi, stati di scarsa energia, quindi va sbloccato questo chakra, quindi a bassa autostima. Secondo chakra, zona dell'ombelico, centro energetico di colore giallo, vibra a una frequenza di colore giallo. Quando è bloccato, la persona tende a vivere gelosia, diffidenza e sensi di colpa. Ecco, queste sono le tre caratteristiche, una delle tre, o tutte e tre, gelosia, diffidenza e sensi di colpa. Il terzo chakra, chakra del cuore. Chakra del cuore, colore blu, rappresenta l'energia del sentimento, dell'amore, e il blocco rappresenta delle frustrazioni, di persone che vivono frustrazioni in amore. Queste sono le caratteristiche di chi ha bloccato questo chakra. E poi abbiamo il quarto chakra, che è il chakra della gola, altro chakra fondamentale, rappresenta la capacità di interagire verso gli altri, interagire nel mondo, attraverso una comunicazione persuasiva. Questo chakra bloccato genera pensieri ossessivi, genera paure, preoccupazioni, immotivati. Pensate che il 95% delle preoccupazioni che noi abbiamo per il futuro sono relative a fatti che non accadranno mai. Quindi io credo che molte persone abbiano questo chakra bloccato. E poi abbiamo il chakra del capo, il quinto chakra, che comprende il terzo occhio e la fontanella, nella tradizione tibetana. Se è bloccato abbiamo una sorta di chiusura mentale, una chiusura al trascendente, una chiusura alla spiritualità. E la viviamo di fatto anche come una forma di apatia, e talvolta anche di motivazione, perché se sei chiuso, diciamo a quello che trascende la materia, spesso poi vivi una forma di demotivazione. Ecco, questi sono gli indizi per capire se i chakra sono bloccati. Poi per sbloccarli ci sono delle meditazioni che si possono fare, ne ho parlato in altri video, ma magari farò per un video specifico per sbloccare. Però l'importante, la cosa principale è capire quale o quali risultano essere bloccati, per poi poterli sbloccare o aprire, secondo un'altra terminologia utilizzata. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale, iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!